Cari amici, cari amici, tanti saluti da padre Raniero canta la messa, lo vedete come mi sono ridotto? Ma lo vedete come mi sono ridotto? Mi sono ridotto a venire a parlare su web, io, una delle colonne portanti della cattolicità mondiale, sono qua, mi sono ridotto a dove parlare su web, ma è proprio vero, è proprio vero, quanta fatica si fa, quanta fatica si fa, col greggio, col greggio, col greggio, io mi muovo, mi muovo col coso, con la tonaca mia di Cappuccino, mi pare che sono padre di Cappuccino, non mi ricordo più, non mi ricordo adesso, comunque la tonaca mia, la tonaca, mi muovo, il Vaticano mi si manda intera dimissione quando succedono le cose brutte, mi muovo, mi muovo, io tengo in piedi la cattolicità perché sono un predicatore di quelli, ce ne sono pochi dei predicatori come me, le prediche mie mi le preparo in casa, in casa, quando sono solo, mi sveglio al mattino, no, e scusatemi che perché pure se sono frate Cappuccino ci vado pure io agli servizi igienici, e che sto a perdere tempo io quando sto lì agli servizi igienici, le prediche mie le preparo lì, in bagno le preparo, con calma, faccio le cose mie, con calma, senza fretta, senza fretta, a fin di conti, nel mondo è stato creato un sei giorni, mica l'ha fatto il 448 il Padre Eterno, ci ha piegato sei giorni, capito? sei giorni, sei giorni ci ha piegato il Padre Eterno, Dio, Dio Onnipotente, io faccio le cose mie con calma quando sto al mattino al bagno, al bagno, al bagno, si chiamano oggi le chiamate di servizi igienici, ci sto con calma lì e li preparo l'argomento mia, e sono argomenti, ce ne sono pochi dei predicatori, come me, ce ne sono pochi dei predicatori, e che vi siete già dimenticato, che hai dimenticato, brutto popolo, brutto greggio, brutto greggio, che non capisci niente, ma che ti sei già dimenticato, brutto greggio, che ci sono andato io all'Aquila, quando è successo il terremoto divino, ci sono andato io, anche io ho detto all'Aquilani, che lì me l'ho preparato bene la predica, me l'ho preparato bene in bagno, in bagno, in bagno, mentre facevo certe cose che non si possono dire, è meglio che non si dicono, un frate non le fa certe cose, un frate predicatore non le fa certe cose, capito? E allora lì, ho preparato la predica, perché a uno come me, che mi chiamo Raniero Canto alla Mesa, gli argomenti che gli mancano è per tenere sotto il greggio, per tenerlo sotto, 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 per tenerlo a pecorino il greggio, capito? Tutto greggio fatto di piccoli, giù, tutto a pecorino, tutto a pecorino, è il greggio, è il greggio, e lì conosco io gli argomenti per tenerlo a pecorino il greggio. E allora, vi ricordate, che ne hanno parlato tutti i giornali delle prediche mia, e per Callaquila, e ci stavano tutti, scusatemi, tutti incazzati, dice, ma è come qua, c'avevamo le mei o chiese del cattolicesimo, noi abruzzesi, noi aquilani, e il Padre Eterno vi ha mandato, al terremoto proprio qua, ha fatto crollare pure le chiese, ha fatto crollare, non solo ha fatto morire i cristiani, i cristiani, anzi, i cattolici, ha fatto crollare pure le chiese sue, le chiese sue, e non lo poteva spostare, 10 km, 15 km, un po' più là, l'epicentro, proprio da noi, e la fede stava a traballare, la fede degli aquilani, stava a traballare, e ci sono andato io, e ho sistemato le cose, e lo sticcaro non ho sistemato le cose, perché gli ho detto, gli ho detto, è capitato a voi il terremoto? D'è un privilegio, perché come Gesù, si è messo sulle spalle sua, tutti i rimari dell'umanità, e così voi, nel vostro piccolo, voi aquilani, vi siete presi sulle spalle, tutti i misfatti dell'umanità, l'umanità peccatrice, viene redenta attraverso il vostro dolore, poi siccome vedevo che dentro, insomma dentro la chiesa, lì andò stavo a predicare, c'era la gente che storceva il naso, e sta storciando il naso, eh, greggio ingrato, greggio ingrato, storci il naso, non ci stai a sta argomentazione mia? De me cappuccino, non mi ricordo di che ordine so, non mi ricordo più, de me cappuccino, che so, domenicano, francese, ah, non ti va a sta argomento, che Dio ha scelto te il popolo dell'Aquila, per portare sulle spalle i peccati degli altri, vabbè, poi ho ricordato che c'era l'inferno, e non ho ricordato l'Aquila, l'Aquila è a tutti, eppure a tutti, e che si sono dimenticati che c'era l'inferno, capito? ah, gli predicatori di una volta, sì, quelli si erano bravi, che ogni volta che predicavano, ce lo ricordavano al greggio pecorone, che c'è l'inferno, oggi vogliono fare tutti i progressisti, vogliono fare, gli predi vogliono fare i progressisti, i parruci, per tenersi un po' nel grigio, non mi nono più l'inferno, sono di, oh, che se è tradizionalista, ma che tradizionalista? Con questi pecoroni, con questo greggio, che che non ce può stare, a pecorina, io lo devi ricordare, che c'era l'inferno, capito? E io l'ho detto all'Aquilani, c'avevo l'occhio, l'occhio infuocati, sapevo quando ho predicato, quando gli ho ricordato, e io ho detto, eh, che tanti, tanti girano le spalle a Dio, perché dicono che Dio non c'è, perché se manda il terremoto, vuol dire che non c'è, è uno che manda il terremoto, non c'è, capito? Non c'è, io ho detto, ah, attenti a mettere in dubbio l'esistenza di Dio, e che ho fatto? Quando stavo a un seminario, che facevo l'alti studi di teologia, avevo imparato, ne si erano imparato, l'argomento, l'argomento della scommessa di Pascal, che è un argomento forte, la scommessa, Pascal ha detto che, consentitemi di ripetere l'argomento della scommessa di Pascal, va bene? E che dice Pascal? Dice così, in Gagli c'è due, o Dio c'è, o Dio non c'è, se Dio c'è, e uno si comporta per bene, per bene, per bene, per bene, per tutta la vita, e poi c'è il paradiso, va in paradiso, va, casomai Dio non ci sia, se uno si è comportato bene, come se Dio ci fosse, e vabbè, quando muore, dopo 70 anni, è vissuto da bravo cattolico, e vabbè, muore e non c'è niente, e vabbè, cosa perde? Perde, perde 70 anni, nel senso che quei 70 anni lì li ha vissuti cristianamente, ma sono 70 anni, fin di conto sono 70 anni, non sono l'eternità, ma se Dio c'è, e uno ha vissuto cristianamente, c'è un'eternità di gioia, invece, se uno ha vissuto male, male, ha fatto tutti i comodacci su, dicendo che Dio non c'è, e poi Dio c'è, in cambio dei 70 anni di coronalità, va l'inferno, cioè, non c'è proporzione, capito, tra la durata della nostra vita e l'eternità che c'è da Dio o in paradiso o all'inferno, non so se me capite, pecoroni, non so se me capite, eh, st'argomento mi mette paura, perché non c'è l'incertezza, uno dice, oh, cavolo, qua mi conviene credere, mi conviene, perché se Dio c'è, io vedo risorci verdi dopo, mi sembra manda all'inferno Dio, e me conviene credere, vuol dire che per 70 anni di vita sto un po' sotto la chiesa, mi metto a pecorina sotto la chiesa, però poi c'ho, 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 c'ho il cosola, come si chiama, c'ho il paradiso, ma, ma, se io faccio le comodacce mia e Dio c'è, e, e, quando moro vado all'inferno, capito, e l'inferno dura per l'eternità, e io ho un cambio dei 70 anni di vita, di vita bella, piena di agi e della carnalità, e mi becco per l'eternità in mezzo al fuoco, e io l'ho ricordato l'Aquilani che c'ha avuto due occhi così, perché vedevo che striscevano un po' il naso quando gli dicevo che in fin di conti il terremoto Dio l'aveva mandato per i castigli dell'umanità, e vabbè, deve castigare qualcuno, e stavolta ha acchiappato l'Aquilani, l'Aquilani ha acchiappato, e anzi, gli aquilani si dovevano ritenere privilegiati, perché Dio aveva pensato a loro, che erano loro che dovevano portare il peso di tutti i peccati, ma questo argomento non gli piaceva tanto, non gli piaceva tanto, perché, io me lo immagino che lui diceva vabbè, ma c'è pure, che so, c'è pure le altre città, c'è stanno, no? E mica c'è soltanto l'Aquilani in Abruzzo, no? Andiamo, c'è stanno pure le altre città in Abruzzo, proprio a noi doveva pensare, e proprio a noi, allora io ho ricordato un inferno, io, padre Raniero canta la messa, Dio che colonna portante, che so quanto, quanto so contento che la vita mia ha sto scopo che me muovo, me muovo, me muovo, me muovo, me muovo, me muovo, le prediche mie, le mie prediche mie le preparo al mattino, presto, al mattino, presto, quando me arzo, quando me arzo nell'appartamentino mio lì, chiamate come vi pare, c'è la, non lo so manco io, io mi muovo, capito, però sono riscaldati, dove sto io, c'è stato riscaldamento, riscaldamento, ci stanno le termosifoni e vado in bagno, vado nei servizi igienici e lì preparo le meglio, le meglio prediche mie, alla tonaca mia, alla tonaca mia, alla tonaca mia, da cappuccino, non mi ricordo, cappuccino francescano, domenicano, non mi ricordo, la bella stirata, bella, che me se la stirano così bene, le monache di clausura, la donaca mia, me se la stirano così bene, e me muovo, me muovo, me muovo, e tutto è da aspettare che arrivo io, padre Raniero, canta la missa, canta la missa, canta la missa, uno canta la missa, che dicevano proprio le giorni antichi romani, a dire, no me ne sto me, mazza quanti erano grandi gli antichi romani, vabbè, canta padre Raniero, canta la missa, mo, dopo che ho fatto, quello che ho fatto all'Aquila, che li pecoroni, l'ho pensi tutti a pecorina, perché gli ho ricordato che esiste l'inferno, e tutti zitti e mosca, zitti e mosca, zitti e mosca, e ricordatevi, voi che parrucci di campagna, che andate a mangiare, a beve, a casa dei parrucchiani, andate a beve il vino, il vino buono, che ve li volete tenere tutti amici, ma non è così, quando predicate, tiratelo fuori l'inferno, no, tiratelo fuori all'inferno, questo vuole al grege, se non c'è stato sotto di noi al grege, se non gli ricordi che c'è stato l'inferno, e mo che sta succede, mo che sta succede, prima c'era quel grande pericolo là, perché la gente, la gente, per i coroni, perdono la fede, miserabili, ma che si credono, che si credono, che si deve stare soltanto bene a sto mondo qua, ma che si credono, non c'è il terremoto, dicono, non c'è Dio, non c'è Dio, tant'altro è, perché se è vero, 50% che c'è, 50% che non c'è, fa un po' il conto di te, però, quello che ti conviene da fare, come diceva Pascal, Blaise Pascal, le pensieri, ha scritto le pensieri, Blaise Pascal, le pensieri, i pensieri, capito? I pensieri, che te li fanno leggere pure all'università, i pensieri di Blaise Pascal, capito? Con questa grande scoperta, l'argomento della scommessa, l'argomento della scommessa, Blaise Pascal, le pensieri, le pensieri, i pensieri, è rotto così, il libro è rotto così, le pensieri, meno male che c'è stato Blaise Pascal, che ti ha fatto sta bella scoperta, argomentazione logica, e io a un certo punto, mi sono dovuto, come dire, rimettere l'armatura mia, perché, lo sapete che sta succedendo? E ormai hanno stufato, la stampa, la televisione, negli States, negli infami States, dove sono quasi tutti protestanti, o sono ebrei, o sono protestanti, quegli infamoni, non ti hanno fabbricato una campagna denigratoria nei confronti della cattolicità e di sua santità? Sua santità? Il Papa nostro, che lo vedete, lo vedete, che bel figurino che c'ha, che procede elegante, e delicato, che c'ha, lo vedete, lo vedete, che figurino, che figurino, non ti vanno a parlare male quegli infamoni, negli States, che sono tutti protestanti, o ebrei, 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 sono tutti ebrei, infamoni, infamoni, che sono quelli che hanno messo un croce nostro, signori, infamoni, che, 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 hanno iniziato una campagna denigratoria, diffamatoria, nei confronti della cattolicità, nei confronti della persona del Santo Padre eppure del suo fratello, del suo fratello, tirano un ballo la pedofilia, tirano un ballo la pedofilia, c'è sporcono, c'è sporcono, tutto, c'è sporcono, e non finiscono mai, e non finiscono mai, 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 poi, in televisione, ti vanno pure a trasmettere, gli infamoni della TV, invenzione, biabolica, di Borga, c'è delle trasmissioni della TV, ma hanno detto che c'è stata un'infamona della trasmissione, dove hanno parlato, i sordomuti dell'Istituto Provolo di Verona, l'Istituto Provolo di Verona, dove c'erano i sordomuti, i sordomuti non potevano poveri, non potevano né parlare e né ascoltare, e ora sono cresciuti, sono grandi scelri, ci avranno 50, 60, 70 anni, non parlano, però hanno imparato a parlare con i gesti loro, e questi hanno detto in televisione che erano sordomuti piccoli, piccoli all'Istituto Provolo e sono stati rovinati dai corsi che c'erano all'Istituto Provolo che sono dei libreti dei seminaristi, insomma, e all'Istituto Religione, il Pagnoolo, il Pagnoolo, il Verona, vabbè, e lì tutti decine, 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 centinaia, tutti lì, quando eravamo piccolini ci facevano ma non si dicono ste cose, non si dicono, andiamo, andiamo, stanno lì sempre a mettere al dito una piaga e finiamola, no, e finiamola, mettiamoci una pietra sopra e giriamo, e allora che cosa ho fatto? mentre stavo agli servizi genici a fare cose mie che si fanno la mattina e ci vuole tanto tempo, poco tempo a seconda dei momenti e lì le idee vengono bene le idee lì mentre stai lì al mattino che ti prepari che ti fai bello che ti fai bello che ti devi mettere poi la cosa che è la tonica la tonica tua bella, splendente la tonica tua che sempre in Angel disceso dal cielo a miracol mostrare e io ho pensato ho detto l'attacco viene dagli Stati Uniti dagli Stati Uniti andove ci stanno i protestanti viene dall'Inghilterra andove ci stanno i protestanti l'Inghilterra e Stati Uniti due infamoni in azione infamone perché dietro ci stanno gli ebrei ci stanno dietro che soppiano sul fuoco capito? però ancora ancora non si sono pacificati con noi ebrei io avevo fatto di tutto per fare la pace con loro ma che ogni protesto è buono per darci addosso ho detto a questo punto ho pensato io ho detto a questo punto quasi quasi è come se gli ebrei fossimo diventati noi è come se noi cattolici fossimo diventati noi preti 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 cattolici noi noi se fossimo diventati noi e c'è avuto sta brillante idea e ho detto ma questa idea non ce l'ha avuta ancora nessuno mi sono detto io lì mentre stavo nei servizi igienici nei servizi igienici con riscaldamento i termosifoni accesi mi facevo la barba e poi facevo quelle altre cose che se fanno ma è meglio che un frate non le dica certe cose va bene che certe cose le fa pure lui perché dice ma che se è ministro di Dio pure i ministri di Dio fanno quelle cose là no non le dico però io ci impiego tanto tempo c'è tanto tempo da pensare capito quando sto dentro i servizi igienici è venuto in mente questa bella pensata e mo alla prossima predica mia sparo all'umanità che noi a noi ci stanno a trattare come gli ebrei che 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 nei nostri confronti se 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 scatenate una specie di campagna antisemitica la chiameremo campagna anticattolica e voglio e voglio e voglio e voglio e voglio perché gli ebrei mi diranno ci diranno grazie grazie ci diranno a noi a me padre Raniero canta la messa grazie grazie padre Raniero canta la messa che hai ricordato la tristezza dell'antisemitismo e se vede che tu 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 padre Raniero canta la messa non sei antisemita se vede perché perché ricordi che è stata una cosa brutta e che questa cosa brutta adesso la vogliono applicare al clero cattolico siamo passati dall'antisemitismo all'anticattolicismo anticattolicismo e dice che volete trattare a noi clero clero cattolico come trattate gli ebrei è un'altra forma di antisemitismo anticattolicismo e allora io te sparo sta bella predica te sparo bella bella crociavo la mia bella tonica bella lavata per bene stirata dalle monache di grausura che Dio le belica quanto sono bravi con le manine loro a fare le cose per noi per noi per noi predicatori noi predicatori i certi argomenti che c'eravamo certi argomenti certi argomenti che al popolo resta tutto l'incantato però il popolo se lo vuoi tenere giù a pecorina è grigio è grigio è grigio come sta grigio a pecorina e allora ogni tanto gli devi ricordare che c'è l'inferno capito però questa argomentazione non può funzionare se ci sono dei miei sugli ebrei perché quegli infamoni ebrei non ce l'hanno l'inferno capito infamoni 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 non ce l'hanno l'inferno nel paradiso tutti infamoni loro dicono dicono che il padre eterno che per loro si chiama Yahweh con Geova e l'inferno te lo dà su questa terra inferno e il paradiso te lo dà su questa terra il loro Dio Yahweh questi infamoni dicono che non ce l'ha inferno e il paradiso nell'aldilà non ce sta niente e loro è il Dio degli eserciti è il Dio degli eserciti al loro al Dio degli eserciti al loro Dio il Dio degli eserciti non gliene frega niente nell'aldilà nell'aldilà c'è solo lui lui agli ebrei li tiene nell'aldiquà e l'inferno e il paradiso li li dà nell'aldiquà per cui se si comportano bene gli ebrei con il loro Dio e il loro Dio gli dà il paradiso su questa terra se invece si comportano male gli ebrei con il loro Dio e il loro Dio gli dà l'inferno in questa terra e loro così possono vedere come stanno le cose possono vedere possono vedere e invece noi non gliele famo vedere ai pecoroni nostri non gliele famo vedere le cose non gliele famo vedere c'è da essere mistero c'è da essere mistero c'è non c'è ma chi lo sa che cosa ci sarà il mistero è il punto interrogativo la grande scoperta quello che è il punto interrogativo è e allora gli ho detto è un'altra forma di antisemitismo questa qua a noi del clio cattolico ci state a trattare come gli ebrei ci trattare avevo pensato a lungo questo argomento e l'avevo pensato a lungo Dio quanto l'avevo pensato a lungo quante mattine a dove stavo quando stavo negli servizi genici che facevo le cose mie che lo sapete pure voi che cose so io lo sviluppavo questo argomento lo sviluppavo lo sviluppavo a un certo punto mi sono sentito pronto per la predigania e l'ho sparata qua all'umanità e ho detto ma chissà quanto me si ringraziano quelli delle comunità ebraiche chissà quanto me si ringrazia pure la gerarchia cattolica a me mi faranno boh mi faranno presto presto mi faranno che so vescovo cardinale uno come me uno come me che ti tira fuori questo argomento qua questo argomento fortissimo che dovrebbe tappare la bocca a tutti come ho tappato la bocca all'aquila con l'inferno l'inferno è l'argomento di Pascal e così tappo la bocca a tutta l'umanità con la faccenda qua che siamo passati dall'antisemitismo all'anticattolicismo e invece di dimmi se grazie gli ebrei e le gerarchie cattoliche mia mi hanno detto che sono un cretino mi hanno detto che sono un cretino perché dicendo si può paragonare pensi un po' cosa mi hanno rispondito che non è la stessa cosa l'antisemitismo e l'anticattolicesimo perché dice imbecilli l'antisemitismo non c'è motivazione e invece l'anticattolicismo la motivazione ce l'ha che è quella che il clero cattolico è propenso alla pedofilia ma che sono argomenti da fare ah non c'era motivazione l'antisemitismo ma chi è che l'ha messo un croce Gesù Cristo avevano forse messo un croce nei cattolici Gesù Cristo o gli ebrei dicono che non c'è paragone cioè ci sarebbero due realtà dicono loro incommensurabili cioè eppure il Vaticano si è messo contro di me mi hanno detto che sono un cretino questo ringraziamento pensa un po' te io che mi aspettavo la gloria la gloria di essere celebrato su tutti i giornali della cattolicità della cattolicità perché quando tocchi il tasto dall'antisemitismo l'antisemitismo c'è sempre una bella figura l'antisemitismo nel senso quello fondale l'antisemitismo io ho detto il cloro cattolico è trattato come i ebrei e qua il mondo sono diventati tutti anti-cattolici anti-cattolici se credono che i cattolici sono tutti dei pedofili quindi ci stanno trattando come siamo diventati noi gli ebrei le comunità ebraiche invece le dimese grazie le dimese grazie che avevo toccato il tasto delle loro triste esperienze che avevo riportato una luce la durezza dell'antisemitismo loro mi hanno detto che era una stessa cosa essere antisemiti e anti-cattolici perché essere antisemiti sì ma non c'è motivazione per essere antisemiti mica hanno fatto del male a nessun ebrei e invece a essere anti-cattolici la motivazione è che stanno saltando fuori tutti i casi di pedofilia poi come si sa quando salta fuori mille casi di pedofilia vuol dire che dietro ce ne stanno centomila vabbè questo lo diciamo così tra parentesi va bene centomila duecentomila trecentomila perché mica si possono scoprire tutti solo gli imbecilli si fanno scoprire e vabbè però desti imbecilli vedi che ce ne sono stati tanti nel clero nostro si sono fatti scoprire si sono fatti scoprire sono rimaste le tracce le testimonianze come al provolo che pure i sordomuti ci sono dati lamentati ma pensate voi è un povero 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 che non si può fidare manco dei sordomuti è la televisione che gli dà gli dà la voce ai sordomuti del provolo istituto provolo è è l'istituto provolo di Veruna dice io vado con i ragazzini i sordomuti e a me non mi può denunciare nessuno ti salta fuori pure beh e adesso che succede che le comunità ebraiche internazionali e stampa protestante saranno tutti con me dicono che io non c'ho il metro della logica e il Vaticano mi dice che sono un cretino che facevo meglio attacere ma come un predicatore come me mi vengono a dire che sto che era meglio che tecevo ah guardate guardate ecco perché mi sono rifugiato qua su web proprio proprio perché voi lo conosciate tutti il mio dolore guardate uno come me un predicatore all'antica che gli ricordo al Grece dell'inferno in modo che il Grece si è composto da Grece e sta giù a Pecorina e gli ricordo l'inferno mi vengono a dire dalle altre sfere vaticane che sono un cretino pensate voi al mio dolore c'è un'argomentazione così forte così bella più bella ancora di quello di quelle argomentazioni che avevo tirato fuori all'Aquila argomentazione siamo diventati più perseguitati degli ebrei un'argomentazione che dovrebbe toccare il cuore la sensibilità cioè farsi piangere addosso piangersi addosso toccare la sensibilità della gente in modo che la gente si commuove ai nostri confronti no protestanti ebrei mi si dicono che non c'è la logica e il Vaticano mi si dice che sono un cretino ah guardate ragazzi si vede proprio che non c'è più religione in questo mondo o che ce n'è rimasta poca in ogni caso io vi saluto dicendo vabbè a parte il mio dolore vi saluto dicendo che il grege lo devi trattare da grege e che per tenerlo a pecorina gli devi sempre ricordare che esiste l'inferno compatitemi per il mio dolore va bene tanti saluti da padre Raniero canta la messa